Ciao ragazzi, io sono KreeGamer e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su ArcadeGaddon insieme a Lupo Solitario e oggi romperemo il robot di Donald Trump. Ah, ok. Quindi avviamo... Cazzo. Inizio della partita nel corso. Chi sono questi qua, i coglioni? Allora. Ho scoperto che il centro nevralgialgico... Ma stai zitto. Eh, io farmerò con... Eh, io farmerò con la mazza mazzosa. Pazzo sgravata. Ma che cazzo... Vabbè, la utilizzerò lo stesso perché sono rotto. Allora, sciotta. La rotta. Eh, guarda lo scroto a destra. Vai, andiamo a romperli. Porca troia! Fanno benissimo. Aia! Io continuo a prendere la scorsa. Ok. Oh no, stavo prendendo un'arma. Ma ho capito, dove stanno i nemici? Vediamo. Minchia, quante cose. Uh, c'è l'arma quella nucleare! Eh, il lancia missili atomico. Però me la conservo per il boss. Il lancia... Quello che lancia miliardi di missili, al secondo. Aspettate, vado di mazza. Ok. Ok. Ammazzato. Ah, allora... Siamo un pochino morti. È già leggendario. Ah! C'è un'altra roba qui sopra, ma non capisco cosa sia. Ah, l'inceneritore. Madonna, viene qua. Ma sei proprio coglio... Cioè, hai rankato delle armi che non puoi rankare. Sei proprio forte. Aumenta la difficoltà, sei gettoni. Porca putt... Oh, lo faccio anch'io! Che cazzo! Oh, cazzo, io ho paura. Oh, crepa. Farà come missile a me kill. Dov'è Donald Trump? Bam! Che succede? Perché sei morto? Ah! Venga ad aiutarti! Ah, ma stanno gli zombie del cazzo! Ma al primo livello stanno già gli zombie! Madonna. Oh, cazzo! No, Andre, Andre, stanno quelli... Madonna, detta... Sanno quelli grossi! Stanno i cosi con lo scudo! Aiuto! No, donna! Perché ho dato un'ammazzata a te? Ah, ah! Sono quasi morto! Ah, mi ha ammazzato la zombie! Aiuto, aiuto, Andre! Veloce, loce, loce, ma che non vengono! Madonna, moglie! Madonna, madonna! 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 Vai, crepa! Adesso le devo curare, ok. Eh, ecco, li bastardi! No, no! Io ci sto andando di mazza, perché è veloce la mazza per ammazzarlo. Eh, shotta no, però la mazza li stordisce per tipo mezzo secondo quando li colpisci. Cioè, non ti fanno robe. Non ti vengono in casa in tanti, perché li colpisci non proprio da vicino, cioè, non da lontano, però li colpisci intermediamente, quindi si bloccano. L'unico problema per me sono quelli ciccioni che non posso ammazzare con la mazza, perché altrimenti mi fanno robe, cioè mi esplodono in faccia. Asso, arriva. Porca vacca! Ok. Ok. Età! La torretta! Allora, non posso curarmi. Do una crepa. Oh, ok. Conquista, conquista! Conquisto, conquisto. Uh, cosa sta là? Vediamo, vediamo. Ah, il fuorilegge. Mentre questo... Ah, spero, devo prendere il fuorilegge. Ok, fuori... Sì, il fuorilegge è fortissimo. Perché è shotta. Forca. Arrivo, arrivo. L'unico problema è che ho poca... Ho pochi cazzo. Ahia! Chi mi ha... Te l'ho fatta esplodere in faccia. Oh, cazzo. Oh, no. Aspè, quello con lo scudo, devo andargli dietro? Così. Ecco, così. Con la massa li devo andare anche lo con lo scudo. Ah, Master Chief! Ma Master Chief c'ha gli aimbot, mi colpi... Eh, mi ha sciottato. Sì. Ma Master Chief c'ha gli aimbot, cioè io volo... Io, io, io... Io flyo e mi colpisce lo stesso. Usa, usa. Ok. Perché sta continuando a car... Ah, no. Attento! Ok. Cura, cura. Oh, sì. Madonna mia. Madonna, crepa. Ma questa qua è la prima volta che abbiamo aumentato così tanto la difficoltà. No, sono caduto giù. No. Ecco. Arrivo, arrivo. Ok. Eh, dai, dai. Io mi occupo di quelli con lo scudo. Perché posso colpire... Ecco. Oh, sì! Madonna, monstaco. Madonna, vieni qua. Ma c'è un aimbot, il Master Chief. Mi colpiscono in aria. Guarda, mi colpiscono in aria. Aiuto, sto morendo. Ok. E io c'ho 25 di vita. C'è 16 di vita. Ehm... C'è qualcosa per curare. Alta, vado... Vado a cercare cura. Madonna, quel Master Chief del cazzo. Madonna, crepa. Aiuto, mi stanno inseguendo in migliaia! Voi non ho capito. Ho dei proiettili speciali che fanno un botto di danno e sciottano. Sono dei proiettili speciali, quelli là, che hanno tipo il cerchietto sotto. Oh, Andrè. Prenditi la pistola a base. Ah, Andrè, Andrè, Andrè. Qua c'è un tracker e un eliminatore. Ehm... Ah, chi mi ha mazzato? Ah, ma stava il tizio lì. Madonna, mo' lo sci... Madonna, trepa. Madonna, trepa. Oh. Ma mi sa che la pistola più vicino stai, più danno fa il tracker. Cioè, non il tracker, il... Il coso, il... Oh, cazzo. Porco. È la fine. Sei pronto per il titolo clickbait? Mo' esce Trump. Grazie, motorini, per passare. Oh, cazzo. Oh, oh. Oh, oh. È una robot! È il robot di... Cosa? Il robot... Il robot di Trump. Madonna, ste granate del cazzo. Aia, aia. Mi nascondo. Eta? Fuoco! Minchia! Crepa! Aiuto, mi sento l'andola. Aspetta, scappo. Ok, scappa. Scappa. Oh. E' un po' difficile in sti casi, perché... Ricarica. Ah, può avere più scudo. Aiuto! No, munizioni scarse. Ah! Aia, aia. Ma che male. Aia, aia. Porca. Ma ho finito le munizioni. Aiuto, però. Mi stanno sparando da ogni lato. Ah, Master Chief mi ha ammazzato. Corri, corri. Corri da me. Corri da me. Corri da me. Rianima, 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 rianima. Ok, scappa! Scappiamo, scappiamo, facciamo i giri. Ma non sono munizioni in giro per la mappa. Porco. Porca. Fanno malissimo, Master Chief. Oh, però lì sto facendo un bel po' di da... Ma no, no. Di puttana. Eh. Porca put... Dov'è, dov'è? No, 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 no. Se muori tu, muoio anche io e poi succedono brutte. No, 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 non farlo. Aiuto, io due, io due, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Scappo, scappo. Eh, io c'ho due HP, come cazzo ti rianimo? No! È la fine. È la fine. È la fine. È la fine! Ok, ok, c'è uno shield. Ti rianimo! Scappa! Vaffanculo, ma va... Vaffanculo, oh sì. Aia! 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 Ah, mi ha ammazzato! Corri, 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 corri! Corri, corri! Adesso, adesso, adesso! Adesso, adesso, vai! Eh, dai, utilizza il buco nero! No, non so tutto! Ho utilizzato la mia abilità! Porca! Oh, cazzo, mi sa che è arrabbiato. Oh, non so, mi sta entrando, mi sta entrando in casa! Scappo, scappo! Ho fatto una crepa! Ho pochissime munizioni! Oh! Guardalo! E... Guarda, che ho dato? Master Blaster! Cazzo, ma se... Oh, c'è il laser quello nucleare! Sì, è il robot che ti cura, quello! Vai, vai! Come mi so? Sì, è il robot che ti cura, questo! Cura anche a me! Tira! Mi dà cura! Ogni corpo da cura! E vabbè, ma perché ogni corpo cura un tot, cioè non... Aperture 3? Che cazzo è Aperture 3? E che fa? Tira un... Ah, ma è tipo il lancia-sega di Fortnite! Qua c'è il... Qua c'è il console live! Nui, il cannon di la rubana! Che su riscalvo! Guarda cosa ho trovato! Ah, sto laser qui è nucleare, è potentissimo! Ma... Ma adesso se sprechiamo munizioni non serve perché tanto poi ce ne ritroviamo dopo... Ma quando finisce il livello ce l'abbiamo già! Ah, ok. Ma devo fare un'altra fase, no? Ah, ok, faccio uno qua. Ah. Eh? Salta tutto. Ah, scarso! Dio cane, hai fatto più di me. Ma figlio di te. Ma hai fatto 7.000 punti e non ho fatti 3.000. Allora, stai zitto! Ok, Dante. Ehi! Aspetta, un attimo. Ah. Ehi! Ah, sì. C'ho ancora il laserone grossone. Ma posso uscire il tuo cannone questo? Cosa è sta roba? Ammettazione. No, prendo la pistolina rotta. Ma è stupido quello! È andato nella lava! Cosa è comunissima nei videogiochi? Porca! Sì, però, sti zombie sono un pochino stupi di mano dentro la lava. Ehi! A me! È successo il party da me! Sta laccando tutto! Sta laccando tutto! Aspetta, tiro l'ero... Aiuto! Quanto lag! Ah! 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 Aspetta, aspetta. Fammi ammazzare almeno gli zombettini. E poi ti rianni. Porca... Aia! Rianni ma me! Rianni ma me! Scappa! Sta arrivato pure quello con la scuola! No, non posso! Non c'ho i cazzi! Non c'ho i cazzi! Ma si posso? Io sono morto. Vaffanculo, io sono morto. Ma a me mi puoi rianimare! Ma che palle! Ma che rinuncia che sono morto da solo per il tempo! Ma vai a farlo! Sì! Perché non mi hai rianimato? Coglione! In qualche modo andavi da me e premevi quadrato! Bravo! Usa l'abilità contro gli zombettini che hanno meno tre di vita! Prima l'ho usata! Ecco! Guarda come il cuore l'ho scruito! Guardalo là! Guarda come cade nella lava! Rompi i cosi, i bersagli, i cazzi! No! Non avevo tempo! Sono morto prima di farlo! No, perché mi devi rianimare tu! Ora come lutta tutta! No! No! Common! Sì! godo Continua Continua utilizzando Gettone Porco dio Continua pagando Tua madre Ah Io invece ho comprato Uno di argento a 70 euro Su One Robot Ne ho Non lo so Non lo so Oh non lo so Madonna moti Madonna moti Brucio con l'as Ma infiamo le robe io Porco dio Ho trovato il taser Ehi Ho trovato il buon dottore Quello che cura Sì Oh ti stanno entrando Si osserva Oh cazzo Stanno arrivando Le zombini Calci in culo No No Io metto Porca puttana Se ammazzi i boss Guarda come ho so L'abilità Sui zombetti Del cazzo Ma la faccio Ma la faccio Pesante si consuma oh lo vuoi ammazzare a sto qua oh attento che c'è ho preso fuoco cosa? porca trepa oddio che sta succedendo non sto capendo in casa aia aiuto Andre mi stanno entrando da tutti i lati aspetta faccio un attimo così consumo tutte le munizioni del coso mi prendo la pistolina oh cazzo ho preso il buon dottore oh il buon dottore spruzza e sprega non va non va chi? oh sai che ha avuto una 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 skill si chiama spruzzo però non sono il maestro dello spruzzo spruzza mi spruzza mi spruzza mi tutto porco ma guarda che sono dietro di te eh eh mo esce di nuovo il robot di trump ci vuoi scommettere ma poi il robot cioè si robot il boss quello la con con lo scudo di energia non lo stiamo trovando più quello iniziale quello che esita e trasportava a esplodere eh perché non troviamo mai quello ma esce un bel cazzo no no è la tizia ecco ah spero spero ma io esco in la serona guarda gli asser guarda gli asser quante anni fa guarda guarda oh guarda come esce no però sto finendo le munizioni eh ho finito le munizioni del laser oh no di zombie tu scappa tu scappa guarda guarda ho fatto migliatti di kill e sta crashando tutto scappa no ma no ma io tipo tu hai messo il buco nero io ho messo l'orbita strike ho ammazzato 20 zombie in un colpo e quindi è crashato tutto guarda guarda come è infuocata la tipa si perché il mio laser faccia e non ho finito le munizioni oh aveva tipo 500 munizioni ma sono tutte tutte le avevo fatte tutta l'inizio vado a ammazzarlo come si ho la pistolina e infatti è morta è morta è morta è morta utilizzo tutto quello che ho ma si è rigenerata tutta la vita oh cazzo oh cazzo appunto finivi l'attacca ed era morta cos'è sta caia arrivo arrivo e aspè che sono gli zombie ok scappa scappa utilizzare i cazzi cazzi boccone eh vai attento che c'è la tizia dietro io vedo la tua barra nella vita preghiente vuota curati 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 porca ma come facciamo ad ammazzarla ma impossibile ammazzarla se si rigenera di continuo ahia sto morendo come cazzo l'ammazziamo quella ah oh no scappa 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 ok ah aspetta che stanno i cazzi dietro no non posso curati ma spero no non posso curarti ma spero vieni 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 porca macchina porca macchina impossibile no ma era proprio impossibile curati stavano sette milioni di zombie termine termine avventura ma va a far culo ma il laserone è quello che fa un casino di danni quanto quanto si sblocca è leggendario è ma se va andiamo a controllare ma se va andiamo a controllare ho fatto ho fatto 600 punti in più di te cioè 500 voglio dire ho 500 biglietti in più di te ehi si ma stai zitto ok vado a controllare andiamo oh ho sbloccato il il terzo slot si ho sbloccato il terzo posso mettere in favore della squadra quello che da tantissima vita quindi disponiamo già con il coso questo voglio capire il laserone nucleare povera povera no spettatrice devastatore termico no ah me la ricordo la palla dei glitch andrea ma ho un piccolo presentimento non riesco a trovare l'arma laser il laserone mi sa che non mi sa che non esiste nel corso ma perché sono soltanto quelle comune dove sono quelle ma le armi leggendarie non si possono non stanno no andrea oh porca e poi trasformo rilascia il massimo un attimo mostro di glitch attracca briga per breve tempo non lo so però sto vedendo altro cosa è maggiore tombot è blue burnout oppure c'è palla palla della sventura palla della sventura si chiama si chiama in eruzione di palle ehi della sventura infuocata ah ok ma com'è piccolo tornado eh sì ma ma io non ho capito le armi leggendarie o quelle viola o quelle rare o tutte le altre armi non stanno nell'armadietto oh andrea dove stanno le armi leggendarie io non le trovo cos'è plugin cos'è plugin ok vieni ok vieni asuca ok ok non 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 ma dura tipo un totto di tempo credo ah vedi qua lo schermetto stava il tizio i boss che avevamo affrontato no no aumentiamolo aumentiamolo bisogno forse non come prima che avevamo aumentato di 20.000 volte però aumentiamolo bisogna arrancare non ho capito niente eh sì capisci capisci eh no di cosa? due eh lo sono ma che scarso che sei infatti io ne spammavo due io ne spammavo due durante il boss già adesso vieni a chiudere il cazzo qui mi veramente Oh devi stare là nel punto Allora andiamo all'altro punto Allora andiamo all'altro 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 Bastardo Allora andiamo all'altro 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 Top5Scares HistoriScare Heyenciaitung Top5ScaresSubScare IsCarAlerte Numero 5 Eh guarda Appena arriva il boss io gli sparo con un'arma Risparmo il laserone più il misilazzo Sì Sì Ma io posso? Aspett'è Ah io posso tirare i pugni ai tizi Ha stillato Ha stillato Ah no Vabbè adesso ho lasciato la mazza perché dovevo fare robe Ho lasciato la mazza perché non avevo slot in più per tenermi in altre armi Ma? Ma come c'è quel martellone gigantesco al centro che spacca tutto? Ma che succede se vado sotto a quel martello André? Ci voglio provare La pistola ottica Dove? Vai c'è tu No! Ho fatto bene a non andarci Adesso aspettami tutto Ti sto a rompere Oh stanno i tizi che mi sparano Perché volevi testarla con la senza Eh in effetti anche io pensavo che ti possessi rienimare Ma non è successo più Come? Ah spesso No ma il pay to life ti cura mi sa con il cosa Tieni premuto per curare Eh si mi cura mi cura Mi cura a me Che cosa è sta arma? Ah è fuori legge Beh che stanno tutti questi Sì Madonna hanno rotto le parole Quanti cazzo sono? Madonna rompi il cosa Rompiti Sì Oh Madonna crepa Oh Ma me ne stanno altri Allora Allora stai zitto Oh No Nella serone Lo devo conservare per il boss Dio porco Oh crepa Che te Dai la mira smircia Porca va C'è un medico Ma è di like Eta ma Ma se io li provo ad attirare sul coso Su martello Odio po' Madonna crepa No non sono morto Ah rigenera rigenerato tossi Ci pensi se cadevo qui sotto Tra le lame Del tritatutto Con scritto Ecco qua il coglione Che si è buttato sotto una prezza Oh Oh finalmente Uh Però io c'ho ancora venti di vita Che palle Adesso Adesso De nove Si Aspetta cosa Ho capito Hai finito la tua vita Gli altri sono ancora a vivere Non sono morti Quindi Sto aspettando No ho fatto Ma sai che forse Mi sa che i miei proiettili Oltrepassano i cosi Cioè Hanno Eh si ne colpisco due in uno Cioè se uno si mette dietro Lo colpisco Ma poi da due ore Che sto ancora Che ho pochissima vita Non me la posso rigenerare Scozzese Eh sa ma lo scossese Cosa fa Ah no È le merde Ma figlio di Andrea quando ha 99,9 di vita Usiamo l'abilità Ma sei proprio coglione Coglione di quando compri 3 di oro Su War Robot Coglione di quando compri 100 di oro Con 30 di oro Su War Robot Eh È un affarone Del cazzo No Io ho detto Quando compri 100 di argento Con 30 di oro Ma sai zitto Non è vero Vabbè si Appunto Io intanto Io intanto Mentre tu fai le robe Mi fotto i gettoncini Ehi 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 Ah eccolo Oh Ehi Ok Questo è difficile Scappa Che ca... Ma sei bruttazzo Moriii Ma ne hai lotto lì Ma ne hai lotto lo scudo in tre Porco dio Crepa Ma perché sto sprecando il cazzo ho tirato il tornado che ho fatto ma ha finito il coso c'è ha finito il boss dov'è il boss ah è lì dietro ah ma non ho più nello scudo eh però è nascosto dietro ai cazzi dai si è rigenerato il cazzi si l'ho visto ma da un amore i tiro il cazzo no è tipo un golem